Ho trovato dei libri, Conflitto senza fine, che riguarda il conflitto della Terra Santa, che è più che attuale, e poi questo libro qui, L'uomo, il mito, il messia, che uno scrittore ha sentito parlare, e niente, poi un libretto per la teologia di ottobre. Un corredo per un sacerdote. Io vengo qui per contare delle immagini e faccio delle collage di queste immagini con fogli secchi. È iniziata stamani la svendita alla libreria cattolica in previsione della chiusura dell'attività a fine ottobre. La diocesi di Prato ha deciso a malincuore di chiudere, dopo 65 anni di attività, lo storico negozio di libri e di articoli religiosi, che negli ultimi anni ha risentito dei cambiamenti delle abitudini di acquisto e dell'espansione dei canali online. Il personale sarà ricollocato e i locali di Piazza Duomo, dopo la necessaria ristrutturazione, manterranno la stessa destinazione di tipo pastorale e culturale. Alla riapertura della libreria cattolica, dopo la pausa estiva, in tanti stamani hanno approfittato del primo giorno di sconti fino al 50% per acquistare croci, medaglie, santini, rosari, crocefissi, libri e oggetti a tema sacro. La risposta è stata notevole, notevole, tanta gente, hanno comprato un po' di tutto, anche cose che erano qui magari da parecchio tempo, neanche esposte, alcune cose non avevamo neanche esposte e ci hanno chiesto anche quelle, per cui per ora sta andando bene. Sono gli articoli più ricercati? Atticoli da regalo, atticoli da regalo che magari matrimoni o comunque per altre ricorrenze sono richiesti, o almeno lo erano richiesti spesso nel periodo normale e ora che sono a metà prezzo, figuriamoci. Dovevo prendere un'icona per una coppia di amici che si sposano. Ho tratto qualcos'altro, anche qualche testo sacro? Ho preso una Bibbia, sì, un po' più in grande perché comincio a cararmi la vista. Ho trovato i braccialettini e poi degli anelli che sono a forma di coruncina, che mi servono, che è un'occasione particolare. Sei una cliente abituale della libreria cattolica? Sì, è venuta sempre io a comprare, ce l'ho tanto, però ora ho detto, ma approfitto, faccio un regalino e lo faccio con il rosario. Tra gli oggetti in vendita anche pezzi artistici e artigianali di gran pregio, come le pittografie del Tifernate di Città di Castello e le statuine del presepe. Il presepe è sempre stato qualcosa e ci è sempre stato richiesto. Noi lo concentravamo ovviamente non nel periodo post-estivo o comunque durante la festa dell'8 di settembre, ora però dovendo fare la svendita abbiamo tirato fuori tutto. I prezzi, soprattutto per i presepi di valore come quelli del Fontanini, sono più che convenienti e c'è stata risposta anche qui, insomma, si è venduto diverse cose stamattina.